grazie quindi scusate facendo per me è stata una grande una grande occasione di crescita sia dal punto di vista professionale che di ricerca perché mi sono trovata a far parte di questo progetto integrato che partiva si dalla tutela del patrimonio ma anche di una consapevolezza di un processo di conoscenza fatto con tutte la cittadinanza gestito da chiaramente da italia nostra che mi ha permesso di vedere di costruire un progetto restauro che fosse un diverso rispetto che a quelli di norma di a quelli che di norma metto in atto quindi per me è stata veramente un'esperienza che va oltre l'esperienza tecnica va proprio e nell'esperienza didattico formativo che mi permette anche nel mio ambito professionale quello di docente di restauro di far capire qual è il pregio della concertazione qual è il pregio della del coinvolgimento della delle associazioni locali e delle associazioni di tutela quindi diciamo è stato qualcosa di più di un semplice progetto di restauro chiaramente siamo trovati a lavorare su un oggetto che è un oggetto estremamente particolare estremamente importante un primo nucleo duecentesco un secondo nucleo quello realizzato nel 400 non darò informazioni storiche perché la professoressa guarducci e andrea sicuramente saranno più precisi e più esaustivi di me quello che mi interessava puntualizzare di questo di questo lavoro è in realtà come questa fortezza nonostante sia stata in abbandono per 600 anni perché la realtà è che la fortezza viene realizzata ma il borgo viene praticamente quasi subito abbandonato quindi dalla metà del 400 fine del 400 fino ad oggi in realtà non aveva subito interventi di restauro importanti questa questa fortezza era stata costruita con quelle che erano le tecniche costruttive più importanti dell'epoca quindi tutta la struttura è sottofondata con pali linee sono presenti di atoni e radiciamenti quindi degli elementi di connessione orizzontale e verticali posizionati all'interno della muratura che ci raccontano di una maestranza estremamente colta di una maestranza di un progettista estremamente raffinato maestranza di progettista di cui noi non abbiamo nomi specifici ma in realtà apprendiamo qualche nome ce l'abbiamo chiaramente c'è il libro di fabbrica ma insomma non parliamo di architetti noti a differenza ad esempio del ponte di cui è citata la presenza di francesco e giorgio martini per la fortezza non abbiamo un nome così blasonato ma in realtà tutte le tecniche che sono state messe in atto per il restauro di questa per la realizzazione di questa fortezza sono tutte di primo livello il restauro è stato un restauro che rientra nel restauro archeologico quindi in sostanza tutte le murature sono state pulite conserve consolidate nella parte centrale del nucleo con degli iniezioni di materiali consolidanti e poi ripulite rifinite sulle parti superficiali la scelta di un cantiere che è un cantiere di conoscenza ha portato alla realizzazione di materiali speciali quindi qualsiasi malta utilizzata nel nostro cantiere una malta che non è una malta industriale ma una malta personalizzata sono stati fatti campionamenti delle malte di nucleo ma anche delle malte di giunto queste sono state riprodotte utilizzando inerti locali e materiali che facciano parte della tradizione in maniera da non riniettare materiali chimici ma riniettare materiali che facciano parte quella tradizione culturale questo ci ha permesso poi come ho detto è stato un cantiere che ha avuto delle parti di studio importanti di ritestare queste murature sottoponendole di nuova sollecitazioni dopo l'intervento di consigliamento per comprendere se i nostri interventi erano stati esaustivi dal punto di vista strutturale oppure no quindi è veramente un progetto alle tante sfaccettature chiedo a viola cortesamente se può condividere le immagini che avevamo scelto insieme in maniera tale da potervi far vedere alcuni prime dopo della nostra della della nostra della nostra della nostra della della nostra area di intervento come ha fatto vedere prima adriano questo è un dopo abbiamo ripulito tutta la parte centrale dove la tradizione della la vegetazione una vegetazione molto recente quindi è stata necessario ripulirla anche perché durante i lavori di scavo è stata ritrovata con le mura del 1200 della fortificazione diocentesca quindi un tratto murario molto importante è il rispetto anche di questa stratificazione perché come 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 si dice e come insomma uno dei maestri del restauro pietro san paolesi del restauro fiorentino dice il documento il monumento e documento quindi la lettura di questo giardino perché poi ora vi spiego perché io lo chiamo giardino con una parte a parterra quindi questo grande pratone con all'interno dei gli alberi da frutta e poi quella parte boschiva che vedete più nella parte laterale fa parte di un probabilmente disegno di giardino romantico legato alla trasformazione della torre dove a un certo punto si è sentita la necessità di far apparire questo edificio più antico di quello che era quindi l'inserimento di questi elementi a sesto acuto di aperture centinate cose che non erano presenti nel progetto originario ma che invece ritroviamo adesso nella 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 fortezza ecco qui alcuni esempi vedete la porta a sesto acuto sull'esterno porta che in realtà non appartiene alla parte più antica c'è la parte non non ecco eva scusatemi alle alla alla torre ma in realtà si è realizzato dopo come anche quelle finte aperture a sesto acuto presente sugli presenti sugli altri lati questo perché l'idea era quella di creare un giardino ruinistico probabilmente tra la fine dell'otto gli inizi del del novecento in cui mentre prima l'elemento fondamentale della nostra fortezza era la fortezza in sé ora la locanda diventa un luogo di incontro e quindi la fortezza diventa elemento ludico per per la locanda quindi si invertono un po le polarità e questo è un aspetto molto interessante negli interventi di restauro abbiamo scelto consapevolmente di integrare nella teoria del restauro tutte le parti mancanti con elementi riconoscibili compatibili e sostenibili quindi le limina non sono stati inseriti né cordoni in cemento armato in alcun punto sono stati semplicemente inseriti delle strutture in ferro dei tiranti in ferro delle catene in ferro per ricreare il sistema di connessioni strutturali che si era perso con l'andare con l'andare del tempo si vanno bene anche ecco anche nella chiesa abbiamo utilizzato lo stesso schema in maniera tale da rendere il nostro il nostro intervento di restauro un intervento che in qualsiasi modo è in qualsiasi momento è possibile anche smontare nel pieno rispetto della reversibilità e quindi abbiamo avuto veramente diverse diversi punti di riflessione su questa su questo per la realizzazione in questi restauri una prima parte relativa alle murature quindi queste murature che sono state rigenerate strutturalmente poi la parte di integrazione di aspetti strutturali con l'inserimento di cordoli in ferro quindi non cemento armato posizionati parallelamente alle murature senza devastare tutti i coronamenti quindi preservando tutte le parti di coronamento e anche nelle ossature linee non sono stati cambiati gli elementi linee sono stati accoppiati a degli elementi in ferro quando servivano per evitare di cancellare quella matericità che c'era stata tramandata nell'intervento di allestimento in realtà della torre della torre principale la scelta è stata quella di lasciare che il monumento parlasse di sé quindi non sono la torre come tutte le torri senesi all'interno era totalmente vuota aveva un sistema ligno per arrivare in quota e ora invece la divise in due piani e quindi c'erano tre vani in buona in buona sostanza la scelta è stata quella di mantenere l'intelaiature principali quindi l'orditura primaria l'orditura secondaria eliminando solamente i piani di calpestio per far leggere la torre rinascimentale a tutta altezza ma in realtà lasciare traccia di questi interpiani che ci raccontano di una vita all'interno della villa che probabilmente si è conservata per una cinquantina d'anni e che quindi vuole raccontare la sua storia attraverso la permanenza di alcuni elementi che diventano memoria del nostro del nostro edificio lo stesso tipo di lavoro è stato fatto anche sulla chiesa dove nonostante sia stata realizzata una parete in epoca contemporanea ecco qui altre immagini ringrazio viola dell'interno dell'interno della della torre poi con molti di voi ho già fatto un giro visitarlo sono sempre disponibile come sapete a fare ulteriori visite all'interno all'interno della struttura idem nella chiesa dove come dicevo prima è stata realizzata una parete probabilmente dalla fine del 7 l'inizio dell'ottocento la fonda la parete fondale dell'altare che copre le due colonne ma la scelta è stato quello di intonacarlo con un colore di intonaco diverso per raccontare che è un elemento che è stato realizzato dopo ma non cancellando la storia della stratificazione durante il restauro per l'appunto della parete d'altare il ritrovamento della nicchia per il posito dove era posizionato il quadro devozionale il tabernacolo questo che invece era stato completamente obliterato durante l'allestimento probabilmente di fine di fine della seconda metà del novecento non era più presente nel tabernacolo perché in realtà l'altare non era più a muro ma un altare post conciliare e quella nicchia centrale che vedete dove era posizionato il quadro devozionale che oggi si conserva in una delle chiese immagino dei due comuni dei due comuni limitrofi e l'archeologico faccio un ultimo accenno e poi i miei 15 minuti credo siano passati all'archeologia sperimentale questa storia abbiamo cercato di raccontare agli studenti della facoltà di architettura la matericità delle lavorazioni quindi abbiamo avuto la possibilità di mostrare il cantiere durante le fasi chiaramente lo continueremo a mostrare ora adriano non lo sa ma io giorno 5 ritorno con gli studenti pure quest'anno a bagni di petriolo quindi è una è una novità che ti informo di cui ti informo adesso insomma ancora non ho non ho non ho avvertito nessuno ma insomma farò domani tutti i giri che bisogna fare per le opportune autorizzazioni in realtà i ragazzi vengono a vedere i lavori di restauro le peculiarità intanto vengono a vedere le peculiarità di una fabbrica così importante perché abbiamo lasciato a vista i diatoni radiciamenti in alcuni punti quindi i ragazzi possono vedere quelle che era la sapienza costruttiva dopodiché abbiamo creato un piccolo area di archeologia sperimentale in cui con un miscelatore da calce si può miscelare la prima spegnere la calce poi miscelare la calce costruire un piccolo muretto nei video che abbiamo realizzato in questi anni queste operazioni sono visibili anche sul sito sul sito di italia nostra quindi è qualcosa è passata la foto delle 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 termine del 200 52 parole pure su queste perché certo anche anche in questo caso le terme 200 che chiaramente forse sono la il punto di forza di questo complesso insieme alla scinta murale ovviamente ci raccontano diverse cose intanto ci raccontano che la chiesa e le terme non sono sempre state così sopra c'era un sistema pilastrato di un tipico fontanile senese e sotto c'erano le terme questo è il primo racconto dopodiché ci raccontano almeno due chiese poi ve le racconta ve lo dirà andrea il dottor arighetti le diverse trasformazioni e in più ci raccontano anche tutti gli interventi del settecento perché se uno con attenzione guarda le terme le le vasche si rende conto che le arcate sono quattro mentre le vasche sono tre come descritta in realtà nei documenti delle visite del 1713 documentate in maniera egregia dalla professoressa guarducci dal suo gruppo e dal suo gruppo di ricerca le terme funzionano con tre vasche con tre diverse temperature dell'acqua quindi la più calda la l'acqua intermedia e l'acqua praticamente quasi fredda quindi tre diversi tipi d'acqua abbiamo documentato anche delle vasche esterne in questa in prossimità durante le pulizie abbiamo trovato anche la portella sul fiume che era proprio qui sotto quindi ci abbiamo trovato anche un altro degli elementi caratterizzanti e anche in questo caso il nostro intervento di restauro se vedete è fatto con degli alimenti in ferro anche questi nel massimo rispetto delle murature è un sistema tutti di tiranti che evitano in qualche che evitano che evitano l'inserimento di strutture in cemento armato tanto danni dannose per le strutture in muratura e con degli elementi che ci permettono anche di controllare la buona riuscita del restauro anche durante delle fasi di controllo che abbiamo previsto ogni due anni quindi ogni due anni abbiamo un sistema di monitoraggio per vedere lo stato di conservazione dei nostri presidi sismici dei nostri presidi strutturali scusatemi l'idea di lavorare sul presidi è stata l'idea che ci ha accompagnato durante tutto il percorso perché perché in realtà in questo modo possiamo garantire la possibilità di una verifica degli elementi di consolidamento e di un costante aggiornamento anche della dello stato di conservazione quindi queste sono alcune informazioni sulla chiesa e l'ultimo oggetto che è concluso quasi l'intervento di restauro manca poco manca la parte di allestimento e musealizzazione di cui credo vi parlerà vi parlerà viola uno dei più insomma confrontandomi con qualcuno di voi durante le visite abbiamo detto sembra che sia stato sempre così è vero ora sembra che sono sempre così se guardiamo le foto però del prima e del dopo ci rendiamo conto che prima chiaramente aveva perso molta materia e ora noi abbiamo ricostruito quella leggibilità che aveva perso durante gli anni credo spero adriano di aver risposto alla tua situazioni grazie a tutti grazie a te grazie tanto grazie a tutti grazie a tutti Grazie.